Ben tornati ragazzi, è estate veramente novente ed è ora di riprendere anche con Autodesk Fusion. Sebbene non l'abbia lasciato proprio in disparte del tutto, ho comunque deciso di ripartire con una nuova serie su Fusion. 10 esercizi di difficoltà crescente, dal più facile al più difficile, tutti quanti liberamente visibili su YouTube, verranno fuori nelle prossime settimane, ovviamente qui in estate è difficile, se le volete vedere in anteprima, su Patreon li trovate già tutti quanti pubblicati o comunque i primi 10 arriveranno prima delle vacanze estive. E in più ci saranno 5 bonus, 5 esercizi bonus scelti proprio dai Patrons, ma quelli là saranno video esclusivi per i Patrons e li trovate all'interno del canale Patron. Quindi 10 intanto per il momento, poi se la richiesta sarà alta, ne pubblicherò ulteriori. Aspetta che mi cavo sto cappello perché vabbè fa veramente boomer sta roba qua. Quando sei in una condizione di dire devo imparare a modellare in 3D o qualsiasi cosa, insomma qualsiasi nuovo software, per applicarti cosa devi fare devi utilizzarlo e per quanto riguarda la modellazione 3D cosa devi fare? Devi modellare. Il problema è che la cosa più difficile non è tanto modellare ma è trovare cosa modellare. E a questo punto qui ho detto ma sì dai, perché non prendiamo spunto dai migliaia di esercizi che ha pubblicato questo ragazzo qui? Questo sito totalmente gratuito è veramente una miniera d'oro perché offre spunti per la realizzazione di modelli 3D. Vi pubblica le tavole, vi pubblica le quote e tutto quanto. Non sempre pubblica il video di realizzazione. Infatti i primi, forse i primissimi, i più vecchi erano anche corredati di video di realizzazione. Ecco io ne ho presi 10 di questi qui, ne ho scelti mia arbitraria, diciamo, le ho proprio presi totalmente random. Quelli che mi piacevano di più, da più facile, più difficile. All'interno del sito voi potrete scaricare la tavola, quindi con le misure e tutto. E eventualmente il PDF però non l'ho mai scaricato, in realtà mi basta semplicemente il JPEG che lui scarica. Quindi lo ingrandite, tasto destro, salva immagine con nome e ce l'avete sempre di fianco quando disegnate. Quando dovete cercare un esercizio, in alto qui nella barra di ricerca, ad esempio mettete 1122, e lui vi trova sia l'esercizio per il 2D CAD che il 3D CAD, noi faremo riferimento principalmente al 3D CAD Exercises. Per chi volesse proporre dei modelli da vedere rifatti, lascio il link qui sotto in descrizione al post su Patreon, dove potete scrivere il numerino di quello che volete vedere spiegato passo passo e poi dopo io pubblicherò. Insomma, ne sceglierò 5 e i più, diciamo anche i più difficili, perché me ne hanno già indicati di veramente difficili, e li pubblicherò direttamente su Patreon e alcuni anche dopo su YouTube. Dopo questa doverosa introduzione, partiamo con l'esercizio di oggi. Lo cercate come 1147, non vi fornisco i JPEG perché li trovate all'interno del sito, vi comunque metto il link in descrizione dell'esercizio diretto, quindi ve li potete andare a scaricare. Molto semplice, quindi per chi vuole partire con un esercizio davvero semplice per iniziare a disegnare piani, trovare piani tangenti e tutto, secondo me è uno degli esercizi migliori. Allora, io l'ho già ovviamente disegnato, lo vedete qui. Tra l'altro per chi ogni volta mi chiede come fai a ruotare, vedete l'oggetto così, 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 cos'ha, io utilizzo il mio Space Mouse, trovate il link in descrizione. Partiamo a disegnare. Allora, creiamo un nuovo progetto e andiamo a vedere un attimino da dove, come impostare questo disegno qui. Allora, io sicuramente partirei da questa parte qua, quindi disegnerei la pianta. Adesso io sposto ovviamente l'immagine, perché è inutile che la metta qui, perché poi è un caos. Me la metto di fianco, voi la aprite nel vostro schermo. Allora, sicuramente io partirei con un nuovo schizzo. Lo disegniamo sulla base, piano XY. Tasto R di rettangolo. E iniziamo a disegnare un rettangolo che deve avere le dimensioni di 54.1, 31.8. Poi dopo che cosa dobbiamo andare a fare? In questo caso dobbiamo andare già a disegnare anche la circonferenza, che così ce l'abbiamo a posto. La circonferenza ha un diametro di 31.8. Premiamo il tasto C di circonferenza e andiamo a cercarci il punto intermedio qui di questa linea, 31.8. Ci troviamo anche il foro centrale che è di 19.1. Ritroviamo il centro di prima e mettiamo 19.1. Magari dopo vi spostate fuori le quote, giusto per essere tranquilli. Poi cosa manca? Ecco, una cosa su cui altri mi hanno posto la domanda è come realizzare questi fori qua, che poi come vedete sono dei forellini che adesso qui non si vedono tanto, ma è questo qui, questo forellino qui, che è su un altro piano. Eccoli qua. Io vi consiglio già di partire in questo momento a trovare che cosa l'angolazione di questi fori qua. Allora, loro consiglio, dicono di fare a 90 gradi due fori. In realtà noi ne disegniamo uno per il momento a 45 gradi, quindi prendiamo tasto L di linea, disegniamo una linea a momento random, senza tanti problemi, cliccate la linea e premete il tasto L, scusate X, la dobbiamo fare di costruzione, perché per il momento a noi non serve che sia una linea, ci serve solo come linea di riferimento. Andiamo poi a quotare l'angolazione, quindi tasto D di domodossola, e prendiamo l'angolazione di questa linea qui, gli diamo 45 gradi. Poi cosa manca da disegnare? Manca da disegnare questo rialzo qua, che è largo, vediamo, questo qui è largo, 9.53. Quindi andiamo a disegnare un altro rettangolo, lo disegniamo a partire da questo spigolo qui, 9.53, e poi dopo andiamo a fissarlo nella base, quindi vedete che già in automatico è tutto quanto vincolato. A questo punto direi che abbiamo già tutte le informazioni necessarie per quanto meno fare la base. Cliccate su Finisci Sketch e qui ci siamo. Possiamo andare a distrudere la prima parte che è alta 6.4 mm e poi dopo abbiamo solamente la circonferenza che è di 12.7 mm. Quindi alziamo tutto quanto, selezioniamo, tasto E, deselezioniamo, semplicemente cliccandoci sopra il foro, 6.4 mm. Eccolo qua. Lo schizzo viene nascosto, lo riattiviamo, selezioniamo poi di nuovo 1 col tasto CTRL premuto, 2, le due mezze lune, tasto E, e andiamo in estrusione. In questo caso qua dobbiamo andare a 12.7, ne diamo, 12.7, corretto questa quota qui, ne mettiamo 12.7 e ricordate invece di cut di mettere join. Come ultima cosa andiamo a vedere cosa manca, ovvero la spalla laterale. Questa spalla laterale, quanto è alta? Vedete, è alta 41.3. Quindi andiamo a dare un'estrusione di questo rettangolo qui e 41.3. E qui mettiamo di nuovo join. E qua vediamo che l'oggetto sta praticamente prendendo forma. Per la realizzazione invece di questa costina di riporzo, ancora molto più semplice, andiamo a trovare un piano intermedio che poi ci servirà anche per altre lavorazioni. Allora, il piano intermedio come lo troviamo? Costruisci piano mid-plane e selezionate questa faccia e questa faccia e noi andiamo a trovare praticamente un piano che rimane sempre tra queste due metà. Clicchiamo su ok, clicchiamo il nuovo piano, tasto destro, creiamo un nuovo sketch su questo piano. A questo punto io vi consiglio di proiettare che cosa? Tasto P di proietta, proiettiamo, io vi consiglio già direttamente tutta quanta la geometria, quindi seleziamo questo e questo e gli date ok in modo tale che abbiamo un po' di punti di riferimento. Vedete? Ne mancherebbe uno che è questo qui, vabbè, insomma, lo chiudete voi. Che cosa bisogna fare? Adesso la costina praticamente qui viene data una quota che è 30.6 gradi rispetto al piano di base, una raggiatura di 2.5 che viene fatta dopo, però il punto di partenza ho visto essere praticamente il centro di questo cilindro qui. Quindi se questo cilindro qui è a un'altezza di 25.4 mm, noi andiamo semplicemente a posizionare una linea L, la mettiamo così intanto a random senza angolazioni e robe particolari, andiamo a prendere il tasto D, prendete questo punto qua rispetto alla base e andiamo a quotarla 25.4 mm. Poi cosa manca? Manca da dargli l'angolazione che è di 30.6 gradi, quindi tasto D di domodossola, 30.6 gradi, 30.6 gradi. Ecco, questa qui, dopo dovrebbe arrivare fino a questa linea qui. Voi potete o manualmente, praticamente, trascinarla finché non si incontra, oppure utilizzare il comando Extend. Comando Extend, praticamente lei va avanti fino al prossimo, alla prossima linea che incontra. E qui ci siamo. Cliccate su, anzi no, prima di fare Finish Sketch, sempre su questo schizzo qui, per ottimizzare, senza crearne un altro, andiamo a creare anche già direttamente questo foro qui, che ci servirà poi per andare a forare il modello da questo lato qua. Quindi deve essere un foro da 3.45 a questa distanza qua. Quindi noi disegniamo una circonferenza, 3.45, al momento non mettetela da nessuna parte, mettetela semplicemente lateralmente così, e poi dopo andate a quotare questo rispetto a questo, e gli date la quota di 3.2 e l'altra 10.3. Quindi 3.2 e l'altra andiamo a mettere 10.3. 10.3. E qui ci siamo. Possiamo cliccare su Finish Sketch e a questo punto riattiviamo il body che avevo nascosto e andiamo a capire come realizzare questa costina qui. C'è un comando dedicato. Su Create andate su Rib, se non mi ricordo come si chiama in italiano, in inglese è Rib, comunque vedete l'icona, e andate a cliccare direttamente sulla linea che avete appena creato. Eccola qui. Al momento non vedete nulla, dovrebbe essere 6.4 mm, dovrebbe essere, vediamo la, dove è la larghezza, 6.4 mm, eccolo qui. E cosa succede? Che all'inizio potrebbe essere che vi dia, vedete questo valore qua, che ve la genere in maniera sbagliata, cliccate su Flip Direction, queste freccettine qui, e lui ve le piazza in basso. Praticamente, cos'è comoda questa, perché è comoda questa funzionalità qua? Perché in automatico, vi va a creare praticamente il rinforzo già tangente a tutta quanta la circonferenza. Uno mi avrebbe potuto dire, ma potevi disegnare un triangolo, estruderlo e tutto quanto, sì, però non veniva fuori tangente, bisognava fare altri, un paio di passaggi almeno, per andare a chiudere. Quindi, Funzione Rib nasce appositamente per queste cose qua. Proseguiamo poi con questa parte qui, quindi andiamo a creare il cilindro che deve essere raggio, ah sì, 19.1, a un'altezza di, abbiamo detto prima, 25.4. Creiamo un nuovo schizzo su questa faccia, tasto destro, crea schizzo, e allora, qui possiamo fare la figata, se vogliamo essere precisi, potremmo andare a proiettarci il punto che avevamo trovato prima, che questo qui era già un 25.4, diventa la circonferenza, quindi potrei proiettare questo punto, eccolo qui, e viene automaticamente vincolato alla quota che avevamo messo prima, oppure possiamo sganciare il tutto e dire, ok, io mi faccio le quote per i cavoli miei, per la circonferenza, vi ho solamente dato uno spunto per fare una roba iperparametrica, niente altro. Trovate, se possibile, una linea di mezzeria, vedete, mi vincolo sempre in mezzo, una linea di mezzeria di riferimento, tasto X per renderla tratteggiata, e poi qui andiamo a disegnare quello che abbiamo trovato prima, e quindi la circonferenza che deve avere una quota di 19.1, a un'altezza di 25.4, quindi eccola qui, quotata 25.4. Poi dopo ci dà da realizzare questo, questa cosa qui, questo rettangolo, questo scasso, che è un 22.2x7.9, allora, prendiamo tasto R di rettangolo, andiamo a selezionare il rettangolo del centro, 22.2x7.9, come riferimento poi di altezza, abbiamo che deve stare a 6.3 mm dalla base, 6.3 mm, quindi tasto D, 6.3 mm dalla base. Vedendo poi il disegno, qui vi dici di applicare 4 raggiature da 0.8 su gli angoli, potete scegliere di farle sia a livello di modellazione 3D, quindi quando l'avete estruso, quando l'avete tagliato, oppure a livello direttamente di schizzo 2D. Io, vista la non complessità, vi consiglio di farlo già direttamente a questo livello, quindi utilizzate il comando schizzo, qui fillet, e andate ad applicargli 4 raggiature da 0.8 mm. A questo punto non ci rimane altro che fare le estrusioni e tagli, quindi cosa abbiamo in questo caso qua? Abbiamo un'estrusione di 11.2 per la circonferenza e uno scasso che va all'interno di 8 mm, quindi 11.2 e 8 mm. Estrudi 11.2 mm e riattivo lo schizzo, estrudi meno 8 mm. E qui abbiamo questa parte qui, se vedete, nascondete gli schizzi, tutto quanto viene assolutamente meglio. Allora, andiamo a completare il disegno poi con l'estrusione di che cosa? Del foro, mancava questo foro qui, quindi andiamo a riattivare lo schizzo, era sul midplane, non ci cambia niente, tasto E di estrusione e andate a cliccare, invece di un'estrusione normale, andate a cliccare l'estrusione simmetrica. Al posto di dare una distanza vera e propria, che così, se variate la larghezza dell'oggetto, almeno si adegua all'estrusione, il taglio, mettete all come distanza. Distanza all, quindi sapete che in qualsiasi momento viene tagliato tutto quanto il corpo. Cosa rimane da fare? Che l'ho tenuto giustamente per ultimo, rimane da realizzare, che cosa? Questi bei forellini qui, uno e una due, che per alcuni sono un po' un'artura di scatole da andare a realizzare. All'inizio avevo fatto creare questa linea qui, quindi come prima cosa andiamo a creare un piano tangente, quindi costruisci piano tangente, ma non solo piano tangente, ma utilizziamo il piano tangente to a face e a point, a una faccia e a un punto. Quindi noi prendiamo questo piano tangente, selezioniamo questa faccia e come punto mettiamo questo punto qui, che anche se è fuori ci cambia poco. Lui ci trova automaticamente il nostro bel piano, vedete, ortogonale a questa linea che abbiamo creato prima e su questo piano qua andiamo a disegnare le nostre circonferenze. Quindi creiamo uno schizzo, anche qui vi consiglio di creare una linea che parte da questo punto qui che avete di riferimento, vedete, che è la nostra linea, praticamente potete proiettarla se volete la proiettate. Eccola qui, vi tira fuori un punto di riferimento e questo punto di riferimento poi dopo lo attirate su. Adesso un attimo che sono in una visuale un po' strana, eccomi qua, esco, rientro dallo schizzo così me lo riporta ortogonale. Vedete, qui ho proiettato il punto e mi metto una linea di riferimento, mi basta semplicemente una linea per capire dove sono e dove non sono e a questo punto vado a disegnarmi la mia circonferenza. La disegno sulla linea, metto un valore a caso perché non mi ricordo al momento il diametro e allora abbiamo qui che diametri abbiamo? Vediamo un po'. Sono due da 3.45 a che altezza? Sono, hanno altezza di vediamo un po' 7.87 quindi 7.87 7.87 di altezza e 3.45 di diametro quindi 3.45 di diametro 7.87 andiamo a quotarle questa qui 7.87 e abbiamo il nostro schizzo pronto per essere estruso. uscite dallo schizzo gli date tasto E di estrusione tornate indietro se volete fare la figata qua gli date invece che distance gli date 2 object e come 2 object gli date la faccia interna così siete sicuri che variate il diametro e automaticamente il foro rimane sempre forato. Cut ovviamente come funzionalità quindi in questa qui mettete cut e poi dopo per realizzare il secondo semplicemente andiamo a prendere il piano midplane che abbiamo utilizzato prima questo qui il midplane utilizziamo la funzionalità di mirror con il mirror selezioniamo invece di bodies selezioniamo le features quindi prendiamo l'ultima feature quindi l'ultima estrusione che abbiamo fatto la selezioniamo selezioniamo come mirror plane questo qui come piano di simmetria questo qui e vedete che in automatico lui ci va a applicare con ok l'altro foro dall'altra parte quindi direi che ci siamo abbiamo quasi finito l'esercizio per ultimo come dico sempre a tutti quanti applichiamo i fillet il fillet tasto F andiamo a selezionare che cosa questo spigolino qui interno e c'era una raggiatura da 2.5 mm 2.5 mm selezioniamo 2.5 mm e automaticamente eccolo qui ci ha fatto anche la nostra bella raggiatura come ultima cosa rimane questa raggiatura in superficie non l'ho disegnata nello schizzo di prima perché è molto semplice abbiamo una raggiatura cioè una circonferenza di 15.9 di raggio che in realtà è il 31.8 diviso 2 è molto semplice prendiamo questa raggiatura qui la applichiamo con un fillet quindi potete o aprire un nuovo fillet oppure riaprire il fillet di prima premere il tasto più premere 1 e 1.2 spigoli mettere 15.9 e siete a posto quindi potete prendere anche la quota che avete messo prima ad esempio quindi questa quota qui è un 31.8 e si chiama D2 eccola qui potete anche mettere eventualmente D2 fratto 2 fate comunque un bel lavoro questo è il modello completato vedete mi sembra che non manchi nulla facciamo un rapido check direi che è tutto ok quindi se vado a fare una sezione eccola qui direi che tutto quaglia alla perfezione bene ragazzi avete visto finito l'esercizio non è per nulla difficile come vedete qualche piccolo passaggino c'è ovviamente che dovete dovete impararlo ma nulla nulla di allucinante è solo gestione dei piani estrusioni è veramente un oggetto molto semplice quindi vi invito a iscrivervi al canale se non lo avete già fatto perché usciranno i prossimi video prossimamente se i video ti sono piaciuti valuta eventualmente di fare un passaggio su Patreon per sostenere il canale ringrazio tantissimo tutti quanti i patrons che ogni giorno supportano il canale attivamente che mi spronano a fare queste serie qui per tutti quanti davvero grazie grazie di cuore quindi se il video ti è piaciuto ovviamente per un tuo amico che sta iniziando con Fusion e tutto condividi questa serie di video e anche la precedente serie di video che ho fatto perché lo aiuteranno sicuramente ad imparare ti ringrazio vi ringrazio e ci vediamo ai prossimi video iscrivetevi alla playlist al canale e tutto quanto ciao ciao ragazzi grazie a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione!